Oh, mio Dio, a che pensavo dove avevo la testa? Fantastico. Le scene che hanno fatto la storia ora tornano davanti ai tuoi occhi. Eh, allora ci siamo, forza, andiamo! Su Warner TV ti aspetta il grande cinema da vedere e rivedere. Grazie. Serata notti d'autore. Ogni mercoledì alle 21 e 25 su Warner TV, canale 37. Il dolore a volte può farti venire voglia di buttare la giornata nel cestino. Anna, tutto ok? Ho mal di testa. Puoi provare il brufen analgesico? Grazie al sale di lisina permette un assorbimento rapido del principio attivo. Vieni a pranzo? Certo, brufen analgesico mi ha aiutato. Brufen analgesico combatte rapidamente il mal di testa e anche la febbre. Marco? Mi c'è? Il solito problema? Ma che faccia delusa! Fairy Platinum Plus, numero uno contro lo sporco ostinato. Fatti, non parole. Fairy agisce non appena tocca l'acqua, reidrata il cibo secco e lo rimuove velocemente. Questa sì che è una faccia soddisfatta. Fairy Platinum Plus, numero uno contro lo sporco ostinato. Ogni scarpa racconta una storia. It's a funny story. It's a pitta rosso story. Se vuoi fare il parmigiano reggiano, devi dargli soprattutto foraggi di questo territorio e senza additivi. perché solo così si ottiene un formaggio in cui si riconoscano i sapori di questi campi. Guarda Karima. Ti lasciano accarezzare. Perché stanno bene e perché mangiano bene. Ma se mi avvicinassi, tu scapperesti. Prima mi dovrei fidare. E allora cominciamola qui. Niente additivi, solo parmigiano reggiano. Sera Greta. Ecco con il mio pensiero. Si o qui ci, ora si qui le yeah, popolaccia, Poなんです che non ci si fine, рублей e signere. www.warnertv.com Ha ricevuto il gran cashback 20% BBVA ed è così contenta che ha detto a Carlo che oggi lo trova molto carino. 20% cashback, 100% innamorato. Conte carta BBVA, zero spese per sempre. Così normale e così straordinario. Aprile adesso su BBVA.it